salve ragazzi oggi impariamo i passi base del cia 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 ma prima di imparare il cia 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 dobbiamo aver imparato i passi base della salsa poi sarà tutto molto più semplice imparare anche il cia 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 vediamo com'è il passo base del cia 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 allora iniziamo con il piede sinistro avanti 1 batto col piede destro dietro e poi ritorno cia 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 dietro piede destro batto col sinistro ritorno cia 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 quindi avanti torno cia 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 dietro batto cia 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 1 2 cia 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 dietro cia 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 tutti gli altri passi sono uguali a quelli della salsa l'unico è che sul 3 inizio i tre passettini di cia 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 vi faccio vedere il giro giro a destra avanti giro cia 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 dietro resto cia 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 avanti e sinistro di giro inizio a fare il cia 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 e finisco il giro e poi dietro con il destro cia 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 quindi 1 2 cia 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 1 2 cia 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 1 2 cia 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 e adesso con la musica su posto iniziamo facciamo con le spalle 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 bravissimi facciamo con le spalle